salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video io sono graphic e oggi siamo nello speciale 300 iscritti allora siamo qui nella rischia il gusto challenge e come avete letto al titolo sicuramente avete capito con chi la faremo quindi mamma vieni qua oggi facciamo una sfida una challenge una sfida e te si ok allora poi ti spiego intanto allora prendi un bacchino ma che siccome devo fare la copertina nel video metti così tipo ferma per beh come vediamo la challenge allora ci sono delle caramelle io non giriamo la ruota è quella che della fortuna cioè sotto al del blu e perché che è questa pillola blu che caccia la lingua fuori questo abbiamo tutte le caramelle qui questo ok allora no perché allora questa è la ruota secondo mia madre ok è tipo la ruota mongoplettica ma ma tu hai messo se devo metterla così o è già così la ruota attaccato io l'ho messo mamma sei genio mamma così ecco visto che sei brava dicevo io scusa allora adesso non giriamo questa ruota e ci sono delle caramelle allora giriamo la ruota vediamo cosa ci esce allora è uscito c'è rumo è gelatinoso allora sarebbe sì no tranquillo allora sai quelle rosse sarebbero come fiocco quella caramella allora devi scegliere questa allora quella rossa sono che devo fare adesso appena la mangi ti spiego più dettagliamento il gioco ok perfetto sono tutte quelle che ci sono qua dentro almeno ok adesso noi ne dobbiamo scegliere una secondo te qual è la più buona ok perché ridi che che cosa è al mio 3 2 1 ce la mangiamo è schifo perché allora ti spiego senti vedi quando abbiamo girato questa ruota in pratica che è come giocattino su ciliegia rossa giusto ok adesso in questo gioco adesso ti spiego meglio perché sono tu mi dice no non la faccio e giriamo a ruota no quando esce una caramella e può uscire o quella sono di color uguale tipo quella gialla è volito puzzolente o tropical lime allora quindi se in pratica se esce quella gialla ti potrebbe capitare o il gusto cattivo il gusto buono tu in questo caso hai preso quello buono meglio quello cattivo quindi un punto per te in pratica se invece ti ingoi quella cattiva prendi due punti e poi chi ha i più punti vince non sono buone ok giriamo di nuovo la ruota quella nera puzzetta selvaggia o liquidizia dolce allora prendiamo tutte quelle nere e le mettiamo qua dire 3 vuol dire caso bombe mamma mia in tutte queste almeno tipo due sono buone mi sembra non lo so come funziona sto gioco come malati sono ok adesso scegliere una ti faccio scegliere prima te allora quindi abbiamo detto o puzzetta selvaggia non un odore dentro c'è tutto il gusto ora mi spavendo 3 2 1 io la moita aspetta è buona questo mi è salito proprio la vita questo mi è andato posso girare io ho girato giro io e fanno schifo con me fino adesso è andata tutto bene cerume, giolatinoso, cileggia rossa ce ne sono rimaste 3 allora io c'ho 2 punti tu c'hai 2 punti si ho 0 punti ancora perchè io quelle cattive non me le mangio dai vai io ho preso ah già tu subito io ho già subito pepe 1 2 3 che schifo e becca becca schifo ma che schifo è ce ne ha? ce ne ha? no ma che schifo è se caramelle fogna putrida o ribes blu 2 hell from the other side vabbè ci ci cocote ci mette il succo a voi ah mi prendila 1 2 3 oh mangia no cosa da dire? questa è buona questa è buona questo sarà da detersivo detersivo? di cosa? di dash? per lavare i piatti e come si canta sia per lavare i piatti? facciamo un po' di ridare svelto svelto eeeh non so ancora basta allutire 1 punto ho 3 punti e io ho 1 punto ah vero? sono vero il detersivo? manca la tua? ahah intanto ciccio sta facendo traffic traffic una capra no no la scegliamo noi ah facciamo a modo mio cambiamo le regole le regole invece siccome non vogliamo fare sempre i stessi gusti perché poi diventa brutto eeeh facciamo chi è? 3 arangione vediamo che cos'è arangione ah l'arangione è pannolone del nonno l'hai scelto tu ah di merda gialla che c'è scritto? pannolone del nonno di oh melone giallo ah quindi abbiamo detto pannolone del nonno o melone giallo a te ti piace il melone no? si pannolone del nonno no 1 2 melone 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 ma bella ho pannolone del nonno eh 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 c'è no ahahah 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 basta allora aspetta chi è ancora quel mondo del nonno? continuo il video da sola ragazzi lui è crapic io sono morca ahahah ahahah cimice fetente o tutti i frutti? no la cimice non mi piace a me una volta l'ho assaggiata che mi hai andata in bocca cos'è la cimice? è un animale verde così piccolino tutto si è mangiata? si perchè? perchè andata in bocca come era? faceva schifo ho stato da tre giorni a lavarmi la bocca blu prima le blu facciamo sapone grasso vedi che sarà come quella della fogna che ti si fa tutta uno due tre vai che schifo guarda fino ad ora io ho una sola ne ho sbagliata ho una sto andando bene io lui è sfortunato scegli ah questa vuole l'etame fresco? tu mangiare l'etame io mangiare i frutti di bocca tre due uno via buona buona è rimasta l'ultima cara mammina è rimasta ma io sono fortunata questa volta no cimice fetente ho tutti i frutti tre uno io l'ho mangiata tarararara io qua ce l'ho come? che è? buona 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 è una semice fetente com'era? è schifo l'ultima caramella mi ha lasciato la bocca brutta ora ora mi va a comprare le caramelle buone però quindi ragazzi allora se questo challenge questo speciale vi è piaciuto con mia mamma ho fatto conoscere mia mamma quindi lasciate almeno quanti mi piace tanti tanti quanti tanti anche due vanno bene allora quindi lasciate 30 like per questa challenge e dirglielo pure tu lasciate 30 like like tanti like facebook facebook instagram instagram e ask e ask tash ci vediamo domani con un nuovissimo video commentate condividete iscrivetevi sul canale nel canale nel canale non c'è altro da dire non c'è altro da dire le caramelle facevano stifo quindi buon anno a tutti ciao